buongiorno a tutti i ragazzi e ragazze allora stamattina voglio parlarvi di questa polvere per imbossare allora questa polvere per imbossare è della artemio e dovrebbe avere un effetto olografico no assolutamente no bocciata bocciatissima ha molto più effetto olografico questa della sternestau che ho acquistato quattro anni fa che non questa che mi è arrivata ieri allora però parlo con esperienza allora questo è il primo bigliettino che ho provato a fare cioè potete vedere sia le lettere all'interno vedete che quello che avrebbe dovuto essere il brillantino sembrano solo bagnati non hanno neanche un minimo ho pensato magari è il cartoncino scuro che non gli da non gli fa fare l'effetto olografico per cui ho provato con il cartoncino chiaro guardate cioè oltretutto non ha neanche sbiadito il colore della diciamo dalla colla chiamiamolo come si chiama si è un pennarello per imbossare comunque vedete è niente ripeto molto 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 delusa ho provato un'ultima gli ho dato un'ultima chance per vedere se magari era il cartoncino che assorbiva troppo o riprova o aspettate che se non mi cade il gallarino e ho provato sulla carta sulla carta a sì diciamo vedete le code della farfalla qualcosa ma non l'effetto vi ripeto ha molto più effetto questa che se non sbaglio la trasparente che no no anzi in questa è la silver sparkle molto più questo di olografico che questa che comunque voglio dire per cui niente bocciata bocciata veramente alla grande anche perché voglio dire non costa neanche tanto cosa cinque euro è veramente è stato sono stati cinque euro buttati veramente buttati perché anche su carta vedo che comunque non ha questo grandissimo effetto olografico nelle indicazioni quando vedi oh mi sono fatta male bua io tanta bua allora ne stavo dicendo nelle indicazioni che avevo letto prima di acquistare il questa polvere c'era scritto si consiglia di usare il tampone top boss oppure watermark ma funziona tranquillamente anche con i tamponi per embossing o con i pennarelli per embossing voglio dire il mio pennarello cioè mi è sempre servito ed è sempre stato utilissimo con lavori piccoli dettagli che vuoi mettere in rilievo scrivere nomi parole e poi per embossarle e mi sono sempre trovata benissimo spiegatemi perché con questo no perché molto probabilmente è una sola è veramente una sola poi magari qualcun altro sarà più bravo di me ad usarlo può essere benissimo ci sta tutto però per chi voleva la mia opinione su questa polvere devo dire di essere rimasta molto 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 delusa bene questa è la recensione della artemio olografic pudre a embossè vi mando un saluto e al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti